Musica Ben trovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Scat, terzo giorno di protesta. A Caltanissette i lavoratori incontrano il sindaco Campisi. Droga ha fermato un tunisino, sequestrati 16 grammi di hashish. Ha approvato il regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi. Cosa cambia? Parla l'assessore comunale allo sport, Angilella. A tra poco. Ben trovati in nuovo appuntamento con l'informazione. Caltanissette, Scat, terzo giorno di protesta. I lavoratori incontrano il sindaco Michele Campisi. Terzo giorno di protesta dei lavoratori della Scat che hanno incrociato le braccia chiedendo il pagamento delle aspettanze maturate. La Scat è in crisi e attende sostegno dal comune di Caltanissette e dalla regione. Stamani una massiccia delegazione di dipendenti della società cooperativa che effettua il servizio di trasporto urbano si è recata a Palazzo del Carmine per incontrare il sindaco Michele Campisi per trovare una soluzione alla vicenda che si trascina da tempo. Perché noi aspettavamo una risposta da parte del sindaco visto che ieri si doveva recare a Palermo, alla regione per attingere delle sicurezze per quanto riguarda il poter dare o meno una cifra maggiore di quella che già aveva detto prima che è di 100.000 euro. Il terzo giorno è che siamo fermi, già multati per ben due volte, questo è quello che ci danno in compenso. Stiamo aspettando che qualcosa si muova perché altrimenti resta tutto fermo. L'azienda non è più in grado di camminare, i lavoratori sono 12 le mensilità che sono in arretrato. Questo, di avere uno stipendio ogni mese. Noi lavoratori basta solo quello, avere lo stipendio ogni mese, poi di altro non interessa. Facciano quello che vogliano ma che ci facciano vivere in un modo dignitoso più che altro. Lei rappresenta anche il sindacato? Io sono il segretario provinciale della Will Trasporti. In questo caso è doppiamente interessato perché sono i miei colleghi di lavoro. Anche se in questo momento non è una protesta sindacale, perché il sindacato non fa questo tipo di proteste. Quando si pensa di poter tornare al lavoro? Non si sa, perché qua sono i lavoratori che se non hanno qualcosa da poter portare a casa non si muoveranno da qua. Prato anche di rimodulazione del servizio. Guardi, a proposito di rimodulazione, sì, la rimodulazione si dovrebbe fare, ma come ben sapete in un servizio insufficiente come quello che attualmente c'è a Caltanissete, sì, si dovrebbe parlare di rimodulazione nell'ambiamento forse, perché ci sono delle zone sfornite di mezzo pubblico. Volevo aggiungere che devo ringraziare il signor Cardinale che si è fatto portavoce di alcuni cittadini che erano volenderosi di pagare le multe che sono state fatte ai nostri autobus. Lo voglio ringraziare pubblicamente. Hanno delle difficoltà finanziarie per via del fatto che la regione siciliana non ero che contributi per come dovrebbe. Il Comune ha provveduto a fare l'atto di liquidazione per le competenze, erano circa 20.000 euro. Io ho proposto loro un'anticipazione, cosa che stiamo facendo, per conto della regione siciliana di circa 80.000 euro. è un'anticipazione. Le difficoltà ci sono perché le anticipazioni significa sottrarre finanziariamente ad altri le risorse. È il grande rischio che oggi noi ci ritroviamo con le finanze vuote perché nella regione e nello Stato ci hanno trasferito più soldi. E potrebbe essere poi in grande difficoltà il Comune a soddisfare non solo gli altri servizi, ma anche a garantire le retribuzioni dei dipendenti. Quindi purtroppo gioco forza, io credo che sono 100.000 euro che potrebbero essere bastevoli. Poi io ho capito che praticamente la situazione finanziaria della SCAT probabilmente è di grandissime difficoltà. La SCAT c'è rammarico per le multe? Ma guardi c'è rammarico per le multe. Se ogni soggetto dovesse decidere perché deve fare questa situazione, domani noi avremmo qualsiasi associazione a mettersi in piazza per poter protestare e fare sapere. Io li capisco. Forse però nessuno si è reso conto che è cambiato il mondo. Elezioni, ipotesi, conferme e un susseguirsi di novi. Manca ormai poco, pochissimo alla presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative a Caltanissetta. Già circolano i primi volantini con tanto di foto in posa di aspiranti consiglieri. Già si chiedono i primi consensi, giusto per farlo sapere ad amici, parenti e conoscenti. Per la serie ci sono anch'io. E si prevede veramente massiccio il numero di candidati tra inoccupati, disoccupati, impiegati pubblici a cui sarà consentito di non andare a lavorare per dedicarsi interamente alla campagna elettorale. E non solo. Ci saranno anche diversi consiglieri uscenti pronti a tornare a Palazzo del Carmine. Si preannuncia una competizione tirata, quella per il civico consesso. Per la carica più ambita, quella di sindaco, Michele Campisi resta il candidato del centro-destra, nonostante da più parti, soprattutto negli ambienti vicini a Forza Italia, si parli con insistenza di passo indietro. Al momento solo ipotesi, nulla di più. Michele Giarratana prosegue nel suo cammino con Caltanissetta protagonista. Nulla di nuovo all'orizzonte, insomma, se non un susseguirsi di nomi di altri probabili candidati. Giuseppe Iacona, il fratello Sergio, Vincenzo Comparato e Paolo Lapaglia. E forse ce ne saranno altri nelle prossime ore. Il PD sembra convergere totalmente su Giovanni Ruvolo, del Polo Civico. Salvatore Messana potrebbe trovare il pieno consenso dell'Udc. Non cambia il fronte a sostegno di Gioacchino Loverme, che è civico, e di Giovanni Magri, che a breve conoscerà il numero e i nomi degli aspiranti assessori del Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato alla campagna di reclutamento online, e di cui sarà pubblicato anche il relativo curriculum. Per l'elezione a sindaco prende forma anche la candidatura di Dario Cammarata, di Sicilia indipendente. Droga ha fermato un tunisino nell'agrigentino, sequestrati 16 grammi di hashish. Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacch hanno tratto in arresto Derbali Ward, 19enne tunisino, per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso nella sua dimora in un vicolo del centro storico Saccense e sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al domicilio. Trovato un pacchetto di sigarette contenente 20 dosi di hashish e del peso complessivo di 16 grammi. L'extracomunitario è stato posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Caltanissetta ha approvato il regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi. Cosa cambia? Parla l'assessore comunale allo sport, Angilella. Poco fa il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi a Caltanissetta. Cosa cambia? Sostanzialmente non cambia nulla, se non che questo regolamento, che oramai era vecchio, di 20 anni e passa, in buona sostanza il Consiglio ha fatto un'azione lodevolissima che non ha fatto altro che aggiornarlo, renderlo attuale rispetto a quelle che sono le situazioni attuali. Quindi in linea di massima ha reso più comprensibile, più operativo, è stato uno strumento fondamentale a cui l'ente locale è tenuto perché non fa altro che ribadire alcune norme di leggi che purtroppo vanno sempre più appesantendo le risorse comunali. È uno per tutti il problema delle tariffe che obiettivamente vengono ulteriormente ribadite e da recente, come voi sapete, la Spending Review addirittura ha portato anche questi emolumenti ad essere assolti nella totalità dei costi. Fra le altre cose ha anche aggiunto, e questo è un fatto positivissimo anche dei suggerimenti per l'amministrazione, di cercare di venire incontro a chi pratica lo sport, alle società sportive in modo particolare in questa città, cercando di creare tutta una serie di forme agevolative che non sono soltanto quelle di un abbattimento, addirittura degli importi, ma anche quelli di cercare di vedere, di concedere anche gratuitamente qualche servizio che ad oggi non viene concesso. L'amministrazione era già su questa lunghezza d'onda, non appena, se è possibile farle, queste cose le farà volentieri. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. A Gela la polizia ha tratto in arresto Salvatore Graziano Biundo, 34 anni, per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati a oltre due chili di marijuana, l'uomo è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo la polizia, altra immondizia, sotto la statua di Mauro Tuminelli a Caltanissetta, l'indignazione dei cittadini. A poche ore dalla segnalazione di un gruppo di telespettatori sui cumuli di rifiuti e persino fasci di carciofi sotto il monumento del patriota nisseno Mauro Tuminelli, si registra un nuovo fatto increscioso. Gli stessi cittadini hanno chiamato la redazione di TCS per evidenziare che stamani era stata ripulita tutta l'area in questione. Dopo poco tempo, però, è comparso nuovamente un altro sacco di rifiuti, spiegano i telespettatori, e ciò non è assolutamente concepibile. Che ci sia un diffuso scarso senso civico irrisaputo, ma arrivare a sporcare di nuovo dopo tanto di appello, rasenta l'inverosimile. Se poi volgiamo lo sguardo sul marciapiede vicino, ci rendiamo conto che la salita Matteotti sta diventando una sorta di discarica. A questo punto chiediamo una maggiore sorveglianza nella zona e, se necessario, attivare delle telecamere che riprendano 24 ore su 24 quanto accade da quelle parti. Del resto, stiamo parlando di una strada vicinissima a Palazzo del Carmine, al Teatro Margherita e Palazzo Moncada. La segnalazione si conclude così. A quei cittadini pronti a sporcare di nuovo diciamo che è rare umano, ma perseverare è diabolico. A buon intenditore, poche parole. Il canto XXVIesimo dell'Inferno di Dante Alighieri, l'avventura della conoscenza, incontro con la scrittrice Anna Mosca Pilato. Incontro al Teatro Boffremont, attenzioni puntate sul canto XXVIesimo dell'Inferno. Il canto XXVIesimo è uno dei più belli e giustamente più conosciuti dell'Inferno. E' quello, per intenderci, nel quale c'è la figura di Ulisse, Ulisse che rappresenta la voglia, il desiderio dell'umanità di conoscere, di sapere. E questa voglia, questo desiderio fanno sì che egli non vada a passare gli ultimi suoi anni tranquillamente ad Itaca, ma si rimetta in mare per cercare di conoscere per quel grande ardore che ha del divenir del monto esperto e degli vizi umani e del valore, come dice Dante. Naturalmente questo porta ad un atteggiamento di grande simpatia da parte di Dante, che si evince in tutto il canto. Di grande ammirazione del poeta per questo eroe titanico. E ciò ha fatto pensare a molti critici che ci sia un dissidio da il Dante teologo che non può non condannare e non approvare la contanna che viene fatta al fraudolento Ulisse. E' anche, non solo fraudolento, ma colui che disubbidisce ad un divieto divino. Ma, d'altra parte, ci sono altri critici che sostengono che questo dissidio non ci sia. E c'è comunque la salda fede di Dante che impregna di sé tutto il canto. L'avventura della conoscenza prosegue oltre Dante. Naturalmente questo desiderio di conoscere, di sapere, non si arresta nell'animo umano, anzi è insito nell'animo umano. Lo stesso Dante l'aveva detto nell'introduzione al convivio. Il desiderio di sapere è naturalmente insito nell'uomo, cioè per la sua stessa natura. Non si può arrestare. Tante volte ciò cozza contro divieti, contro restrizioni, poste da persone, da ideologie. Ma è naturalmente un percorso inarrestabile. Anche se lo stesso Dante dice ci sono dei limiti. È vero che la ragione umana deve andare avanti, deve sapere, ma ci sono anche dei limiti. Per esempio Virgilio, che rappresenta pure la ragione umana, questi limiti se li pone, come dirà nel canto ventottesimo del Purgatorio, state contenti, umanagente alquia, che se possuto aveste sapere tutto, mestier non era parturir Maria. Naturalmente diciamo i limiti oggi che ci dobbiamo porre sono altri, sono quelli della morale e dell'etica. Per il resto la ricerca del sapere, della verità, è sempre una bella strada da percorrere. Sport, calcio, festa a Leonforte per la Serie D brinda anche un Nissan. Festa a Leonforte per la promozione in Serie D, un successo che è firmato anche da un nisseno, l'ex segretario della Nissa Roberto Bellomo. Sì, è un successo non preventivato inizialmente, perché da un paio d'anni che collaboro con la Leonfortese, effettivamente i programmi iniziali erano quelli di una salvezza e di abbassare i costi. Effettivamente la squadra che abbiamo fatto quest'anno è costata meno di quella della stagione precedente e i risultati, man mano che si giocava con questo gruppo di giovani ricercati sul territorio siciliano, in quanto ex-uniori per gli addetti ai lavori, fasce 90, 91, 92, gente di 22-23 anni, ha portato a creare un gruppo così forte che già praticamente la salvezza era raggiunta con 11 giornate d'antici. Che significa per un piccolo centro come Leonforte andare nel massimo gradino del calcio dilettantistico? Diciamo che è presto dirlo, io magari ho avuto esperienze perché Tempella-Sangataldese potrei paragonare lo stesso, anche se San Cataldo era come città più grande, si parla di 25 mila abitanti contro 12 mila circa, e ancora non hanno capito bene perché la vetrina che ci sarà a livello interregionale, a livello nazionale, è tutta un'altra situazione. Devo essere sincero, partono da una base che c'è una bellissima struttura, di cui il Presidente ha la gestione per 30 anni di questa struttura, di cui quando prima già inizierà da subito i lavori per la trasformazione da erba naturale a erba sintetica, e comunque in ogni caso è una piccola città florente di sport, perché oltre ad esserci calcio c'è la squadra di seconda categoria, ci sono ben tre squadre di calcio a 5, c'è una palla a volo maschile e femminile di serie B e serie C di alti livelli, quindi al di là che sono isolati nella provincia interna di Enna, però la potenzialità della sportività c'è. Si può tornare a fare calcio a certi livelli da queste parti? Ci vogliono delle stagioni con un'annata di forzuna, ci vuole una solida base di collaboratori, nel senso di distinguere la parte amministrativa e la parte economica, ci vuole una raccolta fondi sicuramente necessaria e garantire anche una programmazione minima, e poi ci vuole una gestione, aggiungerei io anche senza invidia, di ognuno di stare al proprio compito e di guardare al progetto e non alle singole individualità. Quali sono i programmi di Belluomo? In questi giorni, devo essere sincero, sono stato travolto e coinvolto da una serie di situazioni piacevolissime, da contatti con tante persone, con squadre, di cui io comunque non posso, ho anche dei vincoli lavorativi sul calzanezzetto, quindi non posso fare, già le onforte va bene, però non posso allontanarmi più di tanti. Ho l'attività dell'associazione dell'autore che mi prende, sono in procinto di andare a commissariare una regione grandissima che è il Lazio, e capite che andare a fare delle manifestazioni con Garzio mi comporta onere e fatica sia da un punto di vista di assenza e di altre cose. Le onforte mi stimano, il presidente nella sua foga di post vittoria ha confermato tutti, però chiaramente io la serie di l'ho fatto in tempi, anche quando non c'era il telefonino, non c'era internet ed era dura. Adesso si può anche pianificare, però c'è un problema di fondo, le risorse economiche, la disciplina dei tifosi, la struttura da creare all'onforte, perché tu capisci che fare calcio in serie D è una struttura di vitto, alloggio, sistemazione, ma anche preoccuparci dei nostri avversari, che non c'è un albergo che può ospitare una squadra, devo andare su Perguso, sono delle cose pratiche che bisogna in ogni caso preventivare e programmare. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, vi ricordo che l'informazione continua su tcsnews.tv e attivo il canale 647 di TCS più 1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione!